ciao a tutti da bonsai italia bentrovati andiamo avanti con i nostri video e in questo nuovo video parleremo di un argomento molto interessante e sarà praticamente un proseguimento del video precedente cioè quando abbiamo parlato del lacer palmatum seigen e abbiamo anche parlato dei problemi che può avere l'acero durante il periodo estivo e quindi in questo video qui analizzeremo in maniera dettagliata questo problema proprio facendovi vedere la conseguenza di ciò che vi abbiamo detto nel video precedente quindi i sintomi proprio sulle foglie di fronte a voi vedete un acero questo qui è un acer palmatum de sojo quindi con la foglia praticamente molto molto delicata ed è proprio uno di quegli aceri colpiti da questo tipo di problema è un problema che capita d'estate se la pianta viene trattata bene comunque sia può accadere in maniera leggera quindi non vi preoccupate perché la pianta sta benissimo poi la vedremo e la pianta come nell'insieme comunque è una pianta che praticamente per non far avere questo tipo di problema va seguita costantemente e quindi bisogna prestare di molto molta attenzione ovviamente noi avendo purtroppo tantissime piante da seguire può capitare di avere qualche pianta con dei problemi proprio perché seguendone veramente tantissime magari una dimenticanza oppure trattando la pianta con poca attenzione la pianta può avere questo tipo di problema e comunque vi assicuriamo che costantemente seguiamo le nostre piante però può può capitare anche perché poi questo tipo di problema si manifesta in maniera veramente rapidissima cioè nel giro di uno o due giorni al massimo la pianta ha questo tipo di sintomo quindi si sviluppa in maniera molto molto rapida allora innanzitutto facciamo una distinzione tra la bruciatura fogliare e il marciume radicale allora questa pianta ha un po tutti e due i sintomi cioè ha avuto sia un problema di bruciatura fogliare e sia un eccesso di annaffiatura quindi un problema di annaffiatura per quanto riguarda le radici allora andiamo per gradi innanzitutto andiamo a vedere la bruciatura fogliare come si manifesta sulla sulla pianta allora come si manifesta la bruciatura fogliare innanzitutto analizziamo queste foglie allora la bruciatura fogliare praticamente cosa fa si manifesta praticamente la foglia si accartoccia ha una consistenza praticamente quasi secca rimangono delle parti di foglia praticamente verde ma come si sviluppa praticamente si sviluppa dalla parte centrale della foglia verso l'esterno quindi comincia a bruciarsi in questa parte qui centrale e poi man mano che prosegue verso verso l'esterno ed ha un colore di un marroncino chiarissimo veramente un marroncino molto chiaro questa qui è la bruciatura fogliare e la possiamo trovare su questa foglia qui la possiamo trovare su questa foglia qui eccola su questa queste qui sono tutte tutte bruciature fogliari per esempio in questa foglia qua sopra adesso non so se riesco a farvela vedere c'è ma c'è solamente da questa parte qui quindi a partire da sempre dal centro verso l'esterno è solamente in questo punto qui non è detto che la bruciatura fogliare comporti praticamente tutta la foglia cioè non è detto che vada a distruggere tutta la foglia magari ne fa solamente una parte qual è però la causa di questo problema come detto nel video precedente la causa di questo problema sono due la pianta è stata troppo tempo sotto il sole tutto il giorno non ha avuto sufficientemente acqua e magari è capitato che ha tirato anche un po di aria secca e calda questo ha causato questo problema praticamente la pianta quando è in una posizione soleggiata tutto il tutto il giorno nelle ore più calde della giornata quando il sole veramente molto forte succede che la pianta non avendo l'acqua praticamente si chiude si chiude in se stessa e praticamente non effettuando in maniera corretta la fotosintesi succede che la pianta avendo la foglia molto molto delicata la brucia in questa maniera qui nelle altre piante questo problema qui succede veramente di rado perché la foglia è più spessa e magari lì in quel caso lì possiamo avere un afflosciamento della foglia quindi non abbiamo questo tipo di problema che abbiamo sull'acero palmato quindi gli aceri palmati sono i più colpiti con questo tipo di problema cosa si fa in questi casi innanzitutto si continua a coltivare la pianta come la si sta coltivando prestando un po più di attenzione con l'annaffiatura ovviamente nel periodo come detto abbiamo già detto nel periodo che va da luglio ad agosto 10 ripalmati vanno messi in una posizione praticamente semi ombreggiata ovvero una posizione di mezz'ombra mezz'ombra significa che può prendere il sole le prime ore della mattina fino alle 10 10 e mezza al massimo dopodiché attenzione perché potrebbero potrebbe avere proprio questo tipo di problema quindi periodi che va da luglio agosto bisogna avere questo tipo di accortezza e ovviamente poi dalla fine di agosto prima di settembre può riprendere la possiamo rimettere tutto il giorno sotto sotto il sole per quanto riguarda gli altri periodi dell'anno quindi da settembre fino ad a maggio giugno la pianta può stare quasi tutto il giorno sotto sotto il sole fino a che le temperature non raggiungono i 30 35 gradi quindi è un discorso di temperatura quindi le temperature quando sono tra i 30 35 gradi la pianta può prendere sole solamente nelle prime nelle prime ore dell'arco della della giornata abbiamo due strade adesso da fare nel senso che adesso la questa foglia qui è danneggiata quindi possiamo o aspettare che la pianta la faccia cadere perché ormai qui non eseguirà più la fotosintesi la pianta quindi la foglia e ora lasciamo così e quindi la foglia la pianta fa cadere la foglia e automaticamente poi qua sotto c'è la gemmetta pronta e farà nuovo fogliame oppure con le forbici andiamo a tagliare il picciolo in questo punto qui dobbiamo aspettare che poi il picciolo cada da solo e quindi una volta che è caduto il picciolo e la foglia la pianta poi rifà praticamente la la foglia un consiglio che vediamo noi è quello di non toccarla di lasciare tutto com'è e di far far sì che la pianta decida lei quando se far cadere la foglia o non farla cadere quindi dare la scelta alla pianta anche perché questo problema non si presenta su tutta la pianta ma su qualche foglia quindi la pianta sta bene e comunque sia la pianta non ha necessità di far cadere questa foglia qui perché effettua in maniera corretta la fotosintesi allora questa qui è la bruciatura fogliare adesso andiamo a a vedere invece per quanto riguarda che cosa concerne invece il marciume radicale allora il marciume radicale si manifesta in un'altra in un'altra maniera adesso veniamo ci riusciamo a farvelo vedere eccolo qua eccolo qua il marciume radicale si manifesta in questo in questa maniera qui cioè la pianta fa praticamente comincia ad avere le punte delle foglie nere sia qui vedete anche questa foglia qui dove la bacchetta qui a dare alle punte nere anche l'esterno della foglia e lo fa e lo fa questo questo sintomo da dall'esterno verso l'interno cioè il contrario comincia ad effettuare questo ad avere questo tipo di problema dalla parte esterna dalla foglia cioè dalla punta le macchie sono nere quindi avremo una necrosi fogliare e quindi anche qui possiamo notare il qual è il sintomo del marciume del marciume radicale o anche qui il discorso è lo stesso anche per quanto riguarda la bruciatura fogliare quindi lasciamo che la pianta praticamente decida quando far cadere la foglia lasciamo tutto tutto così e quindi poi se sarà la pianta a farla cadere la farà cadere quindi vi consigliamo anche qui di non toccare la la foglia se la vostra pianta ha praticamente le foglie tutte completamente accartocciate cioè non ha più nessun tipo di foglia quindi non è in grado di svolgere correttamente la fotosintesi clorofiliana e a quel punto allora potete tranquillamente potete cioè tranquillamente purtroppo siete costretti a fare a togliere tutte le foglie tagliandola al picciolo mettere la pianta in una posizione riparata dal sole e praticamente ovviamente luminosa come posizione e nebulizzare la pianta 3 4 volte al giorno la mattina nelle ore più calde durante la metà della giornata e la sera in questo modo aiuteremo la pianta ad aprire le nuove le nuove gemme e ad assorbire l'acqua che è presente nel terreno quindi questa è un'altra situazione da sapere allora detto questo adesso vi facciamo vedere la pianta ovviamente per esempio se andiamo a guardare altre foglie come ad esempio questa la foglia questa foglia qui è praticamente perfetta quindi avremo praticamente questa foglia qui perfetta può capitare che la pianta possa avere le punte delle foglie leggermente secche tirate verso l'alto lì e in quel caso lì non è proprio una bruciatura fogliare ma è una mancanza d'acqua quindi un magari la pianta ha avuto una leggera una leggera mancata mancanza d'acqua e praticamente a questo sintomo se è di colore chiaro è una mancanza d'acqua se è nero invece è un eccesso d'acqua però in questo caso qui è molto leggero quindi non preoccupatevene assolutamente adesso andiamo a vedere la pianta com'è completa eccola qui proprio per farvela vedere proprio questa pianta qui è una pianta molto molto delicata lacer palmatum da socio eccola qui questa è la pianta allora allora come potete come potete vedere la pianta ha avuto sì questo problema questi questi problemi sia di marciume che di bruciature fogliari però la pianta sta benissimo perché come potete vedere ha tantissime foglie sono quasi tutte sane ha avuto sì un po di problemi quella però la pianta va sta bene così e quindi ci riteniamo comunque soddisfatti però dobbiamo stare proprio attenti proprio per non peggiorare la situazione e quindi riuscire a mantenere una vegetazione pressoché completamente sana ok detto questo non abbiamo altre cose da dire ci tenevamo molto a fare questo video perché veramente tantissime persone non riescono proprio a capire la differenza tra bruciatura fogliare marciuma radicale non capiscono come come comportarsi spesso vedono questi sintomi sull'acero palmato non sanno il perché non sanno proprio il motivo e questi qua sono i motivi di questi tipo e questi tipi di sintomi ok se avete altre domande su questo tipo di problema potete farcelo tranquillamente sia sulla nostra pagina sul nostro canale youtube che sulla nostra pagina facebook siamo sempre a disposizione e ci scrivete veramente in tantissimi quindi sia in privato sia sulla nostra pagina quindi attenzione rispondere risponderemo comunque a tutti però ci vuole un po di pazienza ok un saluto a tutti da parte di bonza italia e noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video ciao